Ecco a voi Martina Lucini, 24 anni, categoria Sporti, di Roma. Allora tu Martina sei una motociclista probetta, quando è iniziata questa passione e soprattutto chi te l'ha trasmessa? Ma guarda in realtà da bambina guardavo sempre i cartoni sulla dv, invece una domenica al posto dei cartoni su Zai facevano il MotoGP. Allora da quel momento in poi non ho più smesso di guardarlo. Quindi è stato abbastanza casuale no? Sì sì, poi a 16 anni ho comprato la prima moto e ho iniziato. E hai iniziato. Parlaci dei tuoi sogni come ingegnere e anche come ombrellina ovviamente. Ma il mio sogno è diventare ingegnere di pista, però è molto complicato perché le donne sono molto poche e comunque il corso di studio è molto lungo. E quindi ho iniziato a infilarmi nei paddock facendo l'ombrellina. Ok Martina, ultima cosa? Una frase per farti votare. Mi dovete votare. Mi dovete votare.